Ciao a tutti, come diventare una gatta morta? Questo video per rispondere ad un'amica che mi segue su YouTube e che vorrebbe diventare una gatta morta. Ora, se vuoi diventare una gatta morta devi diventare meno esuberante, diventare meno vistosa, meno appariscente, però lanciare dei segnali di comunicazione non verbale inequivocabili, in modo tale che il maschio non riesca a accedere alle lusinge. Ad esempio, potresti curare molto l'intimo e attraverso qualche movimento, lasciare intravedere qualcosa, un reggicalze, ma molto nascosto, un autoreggente, un qualcosa. Però non devi renderti appariscente, perché nel momento in cui, cioè, elegante e raffinata sì, ma eseticamente non esuberante. E poi devi fare il battesimo del fuoco, il battesimo del fuoco della gatta morta è quella della seduzione del marito di una tua amica, fondamentalmente. Questo è l'obiettivo della gatta morta. L'importante è quindi che a livello di comportamento mantieni un atteggiamento abbastanza dimesso, ti schieri dalla parte della tua amica, qualora lei abbia dei contrasti con il suo lui, e cerchi di entrare in amicizia con il marito della tua amica. Devi dirgli la fatidica frase, per me sei il mio miglior amico. In modo tale che ottieni diversi risultati. Dicendo questa cosa qua, diciamo che da un lato gli istighi, come dire, il senso di competizione. L'unico pensa, ma perché questo è il mio miglior amico? E dall'altro diciamo che gli mandi anche degli stimoli per cui da un certo punto di vista si sentirà in grado, si sentirà, come dire, avrà voglia di confidare delle cose, di confidarti delle cose ponendoti come amica. E questo è, diciamo, il cliché della gatta morta. Se sei interessata devi fare questo. Sarai confermata gatta morta quando però avrai messo in atto la conquista. Poi la gatta morta vuole prendersi il marito dell'amica, ma non per sempre. Vuole tenerselo per un po', perché poi ha altre conquiste da fare fondamentalmente. E la gatta morta non prende l'iniziativa. La gatta morta anche fa anche resistenza. Si finge proprio morta e lascia che sia l'altro che si avvicini e faccia. Deve dargli proprio l'illusione di essere stata sedotta. Questa è la vera essenza della gatta morta. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!